Ora il primo Mirko si è sposato Adesso tocca a te Eh ci vuole tempo, ci vuole tempo Com'è stato? Vabbè, studio, studio, inizia a studiare un pochino Andiamo appena finito di allenarci A me mancano 5 minuti La sto facendo la passeggiata lungo il Nail E vado a mangiare Quanto sono belli E innamorati I perletti La loro storia d'amore sta appassionando Tantissime persone Che li seguono In tutto quello che fanno E guardano le loro storie Su Instagram I ragazzi Oltre a vedere ai fan I loro meravigliosi Look e i selfie Uno vicino all'altro Per l'ha postato Le foto di una Magnifica colazione C'era un vassoio Pieno di cose buone Pancake, yogurt, mammellata Cereali e soprattutto Un bigliettino Con la scritta Buongiorno Amore Con il cuore Pensate Questa è la colazione Che ha preparato Mirko Alla sua bella Perlina E lei Lo ha ringraziato Con tanti cuoricini Oggi invece è stato il turno di Perla Preparare una magnifica colazione Per il suo Mirko Insomma L'amore tra questi due ragazzi è sempre più grande E anche se in questi giorni a Milano Ha fatto freddo e pioggia Loro ci sono riscaldati Con tutto il loro splendido amor Che bello Oggi 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 Grazie a tutti.